Quali sono i cinque giocatori della Lazio ad aver segnato più gol in bianco celeste? Sapete rispondere a questa domanda? Tra poco lo scoprirete. In quinta posizione troviamo Giordano Bruno con i suoi 108 gol segnati tra il 1975 e il 1985. Al quarto posto c'è Giorgio Chinalia con 120 gol realizzati tra il 1969 e il 1976. Con i suoi 127 gol Giuseppe Signori si ferma solamente ai piedi del podio. Mentre al secondo posto troviamo l'indimenticabile Silvio Piola capace di segnare 159 gol tra il 1934 e il 1943. Al primo posto assoluto c'è Ciro Immobile con i suoi 184 gol. Numero destinato a crescere ulteriormente. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.